bentornati ragazzi bentornati sul canale e bentornati nella nostra rubrica prodotti made in china oggi come il titolo e come state vedendo andremo a recensire un altro prodotto a cui un fan di pokemon non dovrebbe farne meno quindi come abbiamo detto un fan di pokemon o un giocatore di pokemon go che si rispetti non può farsi mancare il cappello della propria squadra come stiamo vedendo il prodotto dedicato all'app pokemon go in questo caso abbiamo il simbolo della squadra rossa ma ovviamente è possibile reperirlo per squadra gialla e squadra blu se guardiamo davanti possiamo veramente ammirare e apprezzare il prodotto per quello che è perché onestamente non mi aspettavo un prodotto così di diciamo di qualità perché vedendolo dalla fotografia sembrava che il logo era incollato un semplice adesivo invece se vediamo adesso andiamo a zoomare è proprio cucito ora ovviamente non so se rendo l'idea e ovviamente con l'immagine posso far vedere bene il prodotto e come il logo è realizzato ma vi posso assicurare ragazzi che effettivamente è stato realizzato in modo impeccabile e io non mi sarei mai aspettato un prodotto così di qualità del genere ragazzi io vi ringrazio sempre per questi due minuti passati assieme vi ripeto il prezzo io l'ho preso solo 2 euro e 0 5 centesimi se volete compratelo vi lascio il link in descrizione come sempre commentate condividete mettete un mi piace e noi ci vediamo e ci sentiamo alla prossima